Il Comune ha deciso di estendere la propria fibra ottica, di cosa si tratta? La fibra ottica presente in città serve già l'85% della popolazione ponendo Genova, come è stato detto anche dai dirigenti di Telecom, ai primi posti in Italia da questo punto di vista. Abbiamo sottoscritto con Telecom Italia un protocollo di intesa che favorisce ulteriori investimenti aggiuntivi rispetto a quelli che ci sono stati, così da estendere la fibra sul territorio cittadino e anche in modo tale da introdurre dei sistemi di connessione tecnologicamente di nuova generazione. Per facilitare la vita dei cittadini, per rendere quindi la città più vivibile dal punto di vista della facilità di accesso al mondo della comunicazione che è importantissimo e per rendere anche più competitivo il sistema città se vogliamo. In questo campo Genova si rivela come una delle città più importanti d'Italia? Sì, i dati 85% della popolazione servita, un dato che andrà ulteriormente incrementato, già pongono Genova proprio tra le prime poche città italiane sotto questo profilo.